Match dunque di grande interesse, quello tra Spiv e Osteria prima di un autentico tour de force che arriverà le due formazioni, insomma il campionato di promozione che inizia ad entrare nel vivo i ravennati reduci dal K.O. contro il Solarolo e invece l'Osteria grande che aveva fatto fruttare nel migliore dei modi il gol messo a segno da Serra. Per quanto riguarda la conquista dei primi tre punti, innanzitutto è l'Osteria grande a sfiorare il vantaggio con un gol annullato per offside che vediamo proprio in questa circostanza, in precedenza il palo, insomma tutto ciò nei primi due minuti di gioco, subito un inizio impetuoso per quanto riguarda gli ospiti in casa dello Spiv e alla fine la conclusione effettuata da parte di Cavini con la palla che sfila sul fondo. Tutto ciò invece all'undicesimo minuto di gioco, poi il rigore trasformato al sedicesimo minuto proprio da parte del giocatore in maglia numero 7. Si trattava, anzi no, si trattava di grazioso, è lui il numero 10 ad eseguire dal dischetto il gol dell'1-0 che vale il vantaggio degli ospiti che non si trattengono certo qua. Anzi, al ventottesimo minuto col cucchiaio vincente trovano anche il bis, esecuzione splendida da parte di Vignoli e 2-0 il punteggio in casa di uno San Pietro in vincoli che non riesce a reagire. Quanto meno nella prima mezz'ora di gioco non si è vista la vera forza della squadra di casa che prova ad uscire e a scuotersi dalla proprio torpore con quest'azione allargata sulla sinistra. Buona la combinazione e la possibilità tra Benigni e Cajat in area di rigore proprio il numero 10. Cerca il cross, viene chiuso però in corner. Andiamo con le immagini. Al 34esimo minuto di gioco, dal calcio d'angolo può nascere una iniziativa per quanto riguarda il San Pietro in vincoli per cercare quantomeno di accorciare le distanze prima che scadano i primi 45 minuti di gioco la palla che viene calciata però esattamente a beneficio del portiere ospite Leone. Andiamo allora al 42esimo minuto con l'appoggio che diventa un assist, un retropassaggio che per poco non favorisce il Tris proprio di Vignoli vicino al 3 a 0. Un'ottima osteria grande prima dell'intervallo, prima dunque che potesse reagire il San Pietro in vincoli come invece accade all'inizio della ripresa. Passiamo al 47esimo minuto, arriva l'accorcio per quanto riguarda i padroni di casa con Lucarelli che sfrutta un assist da sinistra e riapre letteralmente il match per quanto riguarda gli ospiti, i padroni di casa ma sono ancora gli ospiti a menare le danze. 6 minuti più tardi, crossa dalla sinistra, pallonare di rigore, esecuzione, questa volta sì, vincente per il numero 7 della squadra che appunto comanda le operazioni. Quella vincente appunto di Cavini, Tris in casa della San Pietro in vincoli e scatenato a questo punto Cavini trova anche l'assist davvero di grande fattura per il poker vincente dell'osteria grande. Ancora Vignoli il 4 a 1 che sostanzialmente fa calare i titoli di coda anticipati sull'incontro. Osteria grande dominante in casa della San Pietro in vincoli.